6 ettari di trifoglio piantumati in un bambuseto per dare alle api mellifere dell'azienda Kida Organic Forest un habitat naturale straordinario. E' ciò che ha fatto il fondatore dell'azienda Paolo Bruschi che ha creato un vero paradiso per le api delle sue 30 arnie con cui produce un miele pregiato. Abbiamo rilevato questo pezzo di terreno che è di 12 ettari, proprio alle porte della città di Ferrara, di cui 6 ettari li abbiamo piantumati con 9 qualità di bambù diversi. Negli stessi 6 ettari abbiamo seminato del trifoglio nano e quindi abbiamo 60.000 metri quadri, anche perché il fusto del bambù appena piantato è piccolino, occupa poco spazio. E' un fiore particolarmente utile per l'apicoltura perché è un fiore che nasce tra marzo e aprile e si rinnova fino a dicembre, cioè fino al primo gelo. Quindi nel periodo estivo, quando le api hanno finito di trovare i tigli, prima dei tigli, gli alberi da frutto, i fiori in campagna e così, e hanno sempre dei problemi di approvvigionamento e di sopravvivenza, hanno questa a disposizione in 60.000 metri quadri, abbiamo calcolato tra circa un milione e mezzo e tre milioni di fiori, che si rinnovano ad ogni taglio, ad ogni sfalcio. E quindi è un paradiso, è uno spazio che hanno a disposizione questi insetti che poi sono fondamentali per la nostra vita.